Siamo con Pasquale Savio, ex Forio, ma soprattutto Foriano Doc. Pasquale, siamo alla vigilia del derby schitano, vero e proprio, il primo in eccellenza. Quali sono le emozioni a caldo? È bello ritornare a giocare sul campo dove sono cresciuto, sul campo dove mi ha visto fare un sacco di partite, dove magari ho impegnato la mia carriera a calcizze, perché da giovani sono stato a Forio, quindi è una bella emozione. Quanto è importante questo derby per due squadre che al momento rappresentano il massimo per il calcio ischitano, visto che l'ischia non c'è più, si affrontano nel massimo campionato regionale in un momento favorevole per entrambi? L'importanza vale tre punti. Una partita di calcio, diciamo che voi giornalisti dietro le partite di calcio fate un po' di coronamento, ma in realtà è una partita che vale tre punti, punto. Per quanto riguarda gli avversari ci sono sicuramente tanti amici, tra di voi vi conoscete tutti, diciamo che sarà una partita tra amici, la possiamo chiamare così? Sì, magari da piccoli si facevano in mezzo alla strada, ora le andiamo a fare su un campo di calcio. È una partita di calcio come le altre, che si chiama derby, che viene giocata per i tre punti. Pasquale, il Forio viene da un momento sicuramente positivo, il Barano non tanto per quanto riguarda soltanto gli ultimi risultati, però pensi siano favoriti i bianco-verdi, ma si sa in un derby ve la giocate alla grande. Diciamo che il Forio sta da diversi anni in eccellenza, il Barano è una persona che magari in questa categoria è la prima volta che hanno giocato e per questo magari, secondo me il Forio è leggermente favorito, però è una partita di calcio e quindi ci può stare tutto.